Prima di iniziare il video ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace. Grazie. In un panorama televisivo sempre alla ricerca di volti nuovi e storie affascinanti, Beatrice Luzzi si distingue per la sua grinta e la sua visione. Dopo aver lasciato un'impronta indelebile nell'ultima edizione del Grande Fratello, l'attrice di Vivere si apre su ciò che il futuro le riserva, mirando a una trasmissione che celebri l'universo femminile sotto una luce nuova ed entusiasmante. La sua esperienza nel reality show, descritta come un mix di sfide e momenti di pausa dalla routine quotidiana, le ha dato nuovo slancio e determinazione per affrontare i prossimi capitoli della sua carriera. Con la determinazione di chi ha attraversato la tempesta uscendone più forte, Beatrice è pronta a prendere in mano le redini di un progetto televisivo che promette di essere tutto fuorché convenzionale. Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. Grazie mille per essere stati con noi oggi. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivervi al canale per rimanere aggiornati con i nostri contenuti. Attivate anche la campanella delle notifiche per non perdervi neanche un video. E se siete interessati a ulteriori contenuti simili, date un'occhiata a questi due video. Grazie a tutti.